un pazzo sono tutti ragazzi sono pazzi e qui vicino a me c'è mio fratello pazzo vino siamo andati con le sfide cacciatori panini e vai 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 spacchetta 30 bursine Juventus contro l'Inter lui è la Juventus io sono l'Inter big match di serie a team anche se giocheranno 3 o mese ma a noi non ci interessa vabbè non ci interessa vi assumiamo subito le regole allora se uno dei due trova una figurina dell'Inter se la dava io è gol per me se la dava lui è autogol è sempre punto per me e le carte speciali valgono 2 gol mamma mia quindi ragazzi tutto pronto vediamo chi vincerà tanti like per questo video ti ricordo di lasciare un bel like e scrivi al canale anche Gladys e a stag di oggi è Scudettovis perché molto probabilmente lo vingerà l'Inter ma mai dire mai quale squadra secondo voi vingerà lo Scudettovis tende bustine 15 a testa dai e let's go dai 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 quindi ragazzi i gol si fanno solo se troviamo gatti dellajuve o dell'Inter ok ok selebì Roma pecolo fammi nienti 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 mettiamo tutte le carte trovate e qua mettiamo ora lajuve want sakino trovava filippo poi doveva коман serb cagliari alta roma e basta chissà chissà se dovremo calcolare della juve dell'inde perché ogni volta facciamo queste sfide dovevamo tutte le altre squadre anche quelle che ti modofare serb altros pavamo o buoni albumi no non ci rialzo ma se stanno facendo la roma non ci manda a gola avevamo fatto e un po chi è? Simone Inzaghi, il fratello di Filippo Poi Serbi Serbi Vessi Coder Colti Pazzolino, 1-0 Juendus, oh, meno male Alte due Vai, vai, vai Milan Serbi, Albumini Spetto da Fiorentina Bologna Niente Inde per adesso Prosinone, Salmo Lo troviamo in ogni video Fiorentina Parma Ragazzi, oggi solo Parma e Roma Parma-Roma dovevamo fare E guardate i due pacchetti Udinese Serbi Alto Udinese E vabbè, vabbè Ragazzi, il pacchetto dell'Udinese è sponsorizzato all'Udinese Ovviamente non ci hanno pagato Serbi Lecce Busca Questo gli piace fare la raccolta differenziata Eh, vabbè Due E sono due questi E andiamo a 3 3-0 3-0 Il pazzo vino L'Inde non c'è in questi pacchetti Non c'è l'Inde Non c'è l'Inde Dove è l'Inde Dove è l'Inde Ah, quasi usciva Serbi 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 Altra Serbi Serbi Altra Serbi Bologna Bologna Udinese Ragazzi Ma l'Inde Ma l'Inde dov'è Eccola No Serbi Serbi Torino No 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 Mi chiedevo l'Inde Si gode Emila Oh, niente l'Inde Serbi 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 Merde Non è possibile Dai Non è possibile Vabbè Non è uscita la Juve Dov'è l'Inter Mi va bene così Basta che non trovi l'Inter Guarda qua Guarda qua Vabbè Pazzovino Come cacchio fai Vabbè Cambio di programma Oddio Oddio Che domato Non ce l'avevamo Non ce l'avevamo Che domato Pazzovino Vabbè Subito Subito Spoiler Film del campionato Sono bravissimi Filme del campionato Non ce l'avevamo Sì, sì Lo so Serbi Genoa Scudettini Scudettini Lazio e Udinese, che pillette ragazzi, che pillette Sì, l'autogol, sì ragazzi, è anche speciale perché l'allenatore, un autogol enorme, uno giuventino che trova Antonio Conte, sappiamo quando gli giuventini odiano Antonio Conte la cosa più brutta, grazie a Pazzolino, grazie a Pazzolino per questi due gol, e vabbè, e vabbè, e vabbè, e vabbè, e lo diciamolo, diciamolo che questo è il mio mondone dell'Inter, teatro e in due carte, gg, si, scudettini e altri, scudettini con l'album, con lo stesso album, triplo d'un gol di Pazzolino, e tanto, dopo questo, bisogna sempre quelle città 3 a 0 altri a 3 sebi o navoli o gaia crudone ma che cacchio gaiari e piaventina visse sebi ecco ancora la roma e mamma mia ci mancavano belli 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 bello e bellissimo sebi è la stella spisa pulettini doveva l'italanda perché mi fa vendere i colpi perché dico ecco fatto gol e invece è l'atalando dell'indel lo spezzino di nese cladone io dico le calcio sebi cladone e monza continuiamo sebi sebi spezia male o scudettini e scudettini scudettini a scudette va bene allora lo concibillo mazzurino no no ok meno male meno male allenatore di genoa 3b albumini e ciao a tutti gli amici di quemona fiorentina vizzi neri di legge questo piace a mamma scuola femminile di scuola e la nuova e milan che tu mi chiede a giù e la verifica a iu ma bianco celeste in alto e rosso nero e basta molla trevi per ii per ii per ii per ii per ii no a sono quasi alla fine ragazzi mancano 4 pacchetti più questi 6 ragazzi belli ricordo che sta vincendo pazzo fino a 5 a 3 a pabino ieri anni che dice lasciate like a questo video e scrivetevi e condividete e seguitemi su istana pazzo visto anche lui pezzovino 3b e b San Doria San Doria Gianni Marazzi San Doria San Doria San Doria San Doria Stimo Deoppo Gianni Gigi per lui Se mi stai guardando Ciao Albumini Albumini Rockhand Serb 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 San Doria Sali e destro Che tira con sinistro Non è vero Per ultimi pacchettis Non può essere che perde l'inde Non può essere Quando facciamo queste challenge non escono quelle che devono uscire GG Serb Serb E nooo Hakimi Ah sono il Nintendo E va Sono scontato Seee Quanti a 5 ragazzi E adesso La rimonda È possibile La prima figurina che trovo Scudettini e Eeeh No quella era la figurina di prima che avevo messo Ah giusto Vabbè Aaaaaa Aaaaaa Ok Aaaaaa Aaaaaa Che vuoi fare dei consigli per vincere? Le battute di Pazzolino Ci siamo arrivati alla fine Ultimi due pacchetti Incredibile Pazzolino sta vincendo 5 a 4 Ma ancora tutto è possibile Vai Io c'ho paura Con calma Con calma Ti vuoi Aaaaaa Aaaaaa Che dove vado? No che sta succedendo? Che dove vado? Che figurina Che dove vado? Che cacchio è? Una figurina molto figa Torino Torino Sbaglio sempre Sbaglio sempre Un punto Due punti Un punto Due punti Pazzolino va 7 a 4 Per lui Mi sono fatto 2 a 2 gol Incredibile Si muode Pazzolino Lazio Vabbè Mi serve solo un miracolo ragazzi Mi serve solo un miracolo Allora Vabbè Quasi tutta la segnala che figata sta cosa e quindi c'è sia la juve che l'inde quindi un punto testa 8 a 5 a 8 a 5 a 1 a così in mezzo Non è che cambieranno bologna 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 Palma Dai per risulta Albumini e niente Ho perso Siiii 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 L'urno del siiii Uuuu Ehm Vabbè vince Pazzolino 8 a 5 facciamo il conteggio per chiudere il video Allora Pazzolino te vado Un punto Due punti Due punti Tre punti Cinque punti Cinque punti Sette punti Sette punti Otto punti Pazzolisse Vabbè un punto con questa Due punti Tre punti Cinque punti E si goda E vince In questo pronostico La Juventus 8 a 5 Quindi per noi Vingerà la Juventus Con 2 linde Nella battita Che giocheranno 3 a un mese Però visto nel rega Noi dovevamo fare questo video L'abbiamo fatto E' stata una bella sfida L'ultima emozione E' stato un bellissimo video Se volete altri video Di figurine Di spacchettamento Lasciate un bel Like Noi ci vediamo al prossimo Pazzo video E da pazzi Se è pazzo video E' tutto Ci vediamo al prossimo Pazzo video Bella Peace